Gentili telespettatori, buona giornata. L'instant pool di La Sette, sono i sondaggi fatti fuori dai seggi nell'ultima ora di elezioni. Fratelli d'Italia tra il 27 e il 31%, il PD tra il 21,5 e il 25,5%, il Movimento 5 Stelle tra il 10 e il 14%, Forza Italia tra il 7,5 e il 9,5%, la Lega tra il 7,5 e il 9,5% come Forza Italia, AVS tra il 4 e il 6%, azione tra il 3 e il 5%. Grazie a tutti per avermi ascoltato, questo è l'exit pool di La Sette delle 23 e 01, vi ricordo sono sondaggi fatti al di fuori dei seggi nell'ultima ora a quelli che uscivano dalle votazioni. Arrivederci a tutti e grazie.